oh oh guarda rotto guarda rotto mamma mia oh su sta mappa è nico è nico in mezzo alla mappa no è una lobby buona per provare sto cecchino cecchino a perché baci gesù ma dove sono no fanno schifo non vengono qua in mezzo non vengono qua in mezzo ne compagino due mi piace questa cosa ma che fa le mesi ma tipo io ho usato prima l'uempino fa schifo rega cosa io ho usato prima ma schifo da tipo che ha fatto pentupla a me piace un botoli e mori così la prendo è no vero a questa è un cecchino diet marker che è scritto l'ultimo sera un rigame stava distrugge sti tizi proviamo ma che cazzo perché c'era un tappeto perché c'era un tappeto un tappeto era un insieme di tre nemici che formavano un tappeto madame a te dice qualcosa ma lepete minchia miraccolo c'ho però quest'arma mi ha regalito regalito di 18 pm oddio tu stava mio dio questi camperano nei luoghi più improponibili di questo pianeta che c'è tipo quello stava qua dietro così che non si vedeva non si vedeva oh 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 che cazzo è comunque mi piace la mia fisica da forte no no io ho giocato in un game tipo che stavo reggiato però allora cioè nei game perché te non c'ho la mira c'ho solo bestemina di là sto senza mani comunque stico è riusciti a riuscire il prestigio è un po' spie mani no è potentissimo il drone più non dico che non lo sa usare vabbè ho sparato a un tipo e l'ho sciolto male Anche qua Mi sono detto che stavo reggiato per game Però Uso la landed, cazzo è fortissimo Ok deciso, l'intervention si va a fanculo, sblocco Insomma io sblocchi Adesso lo sblocco, punch per l'UMP Quaranta colpi per ammazzare una persona e ricapere da 5 colpi Mi sono innamorato Angel lo puoi usare così te lo frego da terra in tutte le partite? Aspetta Chi ha tirato lo scorcher lo odio Io E zitti Ancora questi erano ancora i tuoi? No No Dove sono i nemici? Non lo so Davanti a me Li vedo Andassi Andassi Va bene Drone di supporto alleato disponibile No, sta già il campo laggiù No, è la missione imminente Hai visto quello sfondo mappa, vero? No, sono morto dopo 20 minuti Regà fate pochi kill please, che sto quasi a nucleare Please C'è la nuffe dal lago con fuori delle tue uccisioni Sono stati tipo l'anzioni, vi dico, però vabbè In chiamiatore t'ho fatto una dribla No, stai dribla qua, già buono No, dribla, dribla Vabbè Sono su YouTube Haha Merdi Merdi Madonna, riga Giugno dell'ansima E' piata Porco 2 Gu, vedi? Morivi a 29 Fuori bestemmia Missione computer Diagnostica in corso